Oh mio Dio, Chris è ancora in casa! Qualcuno salvi Chris! Sai che c'è? Se l'hai meritato. Oh mio Dio, Meg, sono così felice che tu sia viva! Ma che ti è successo? È stato Chris! Stai dicendo che Chris ti ha salvato la vita? Bisogna assolutamente festeggiare! Forza, lanciamo i coriandoli e roviniamo il weekend al bidello! Ciao, non potrò esserci nel weekend. Ma in questo modo ti perdi il ballo dei bidelli. È l'ultima occasione per rimorchiare prima del nostro collegio. Credi che non lo sappia? Questa volta lo meritava un po' di meno. Ehi, figli di puttana! Questo è Chad, lui è il mio ragazzo. Ci amiamo, ce lo siamo detti e tutto il resto. Un aiutino? Buongiorno, Judy Greer. Buongiorno, Lois. Come è andata ieri la serata? Alla grande, mi sono allenata, cena, serata in famiglia e ghighiti con Peter fino alle 11. Dio, ti ammiro davvero molto. È per questo che sei qui, Judy Greer. Oh, quasi dimenticavo! Bert ti vuole nel suo ufficio. E tu sai il motivo? Non me l'ha detto, ma sembrava hashtag serissimo. Ah, una riunione col capo. Sarà molto peggio che trovare un orribile ragno in cucina. Oh mio Dio, Peter, c'è un ragno qui dentro. Già, lo sapevo, genio. Basta, Joe! Io ti sfido a duello con le pistole a mezzanotte. Peter, non avrai portato un lanciafiamme? No. Non ho neanche portato una di quelle pistole laser dei Ghostbusters. Joe, guarda, guarda, ho il sindaco Way! Bene, lo terremo fino al prossimo sindaco. Facciamo festa nella tipica maniera degli anni 90, ballando da soli a metri di distanza l'uno dall'altro. Già, ero decisamente il più fico in città. Avevo gambe stupende. C'erano degli sfigati che festeggiavano un addio al celibato, ma non li conoscevo. Joe! Chi sei, Peter? Sì, esci dalla mia storia. Che cacchio fai? Raccontò la storia dei miei giorni alla Beach House di MTV. Esci tu dalla mia storia. Racconto come ho incontrato Daria. Ehi, vuoi buttarti nella mischia o la mischia si butta in te? Qui da buttare sei solo tu. Sei crudele! Voi almeno festeggiate con le vostre famiglie. L'anno scorso ho passato il ringraziamento con le mie sei bambole gonfiabili. Ecco a te, Carla. Vedi che possiamo fare anche altre cose insieme? Com'è il tacchino? L'ho fatto io. E cosa sono quelle facce sorprese? Ah, qualcuno si sta addormentando. Deve essere il triptofano. Ok, metto su un po' di caffè. Janet, caffè? Carla, caffè? Dina, caffè? Sasha, caffè? Papà, caffè? Beh, vorrei averti dato più fratelli e sorelle, Glenn. Beh, Lois, devo dire che è bello averti qui dopo la prigione. Finalmente a casa mia. Ehi, volevo chiederti, resterei così pompata per sempre? Non lo so, ti piace? Ah, un po' sì e un po' no. Dico che è stato molto bello essere sbattuto contro il muro, ma... Quando mi hai fatto succhiare l'asciugacapelli, è stato bello, eh. Ma questa cosa in particolare non vorrei più ripeterla. Peccato perché c'è il secondo round ora. Facciamo in modo che i ragazzi non entrino. Ora nessuno può entrare e nessuno può uscire da qui. Mani sulla testiera, bello. Sì, signora. È vero perché faccio i rumori del motore. Eila, ciao, Stewie. Vedo che finalmente tagli l'erba. Beh, se qualcuno mi avesse restituito subito il tosa erba, l'avrei tagliata già da un mese. Oh, vedo che il tosa erba non è l'unica cosa che si scalda. Ascolta, devi prestarmi la pala. Voglio scavare una buca. Una buca? E dove vai? In Cina? Lo spero. Bene, allora ti seguirò su Instagram. Oh, attento! È così che Dio crea gli angeli? È così che Dio crea gli angeli. Grazie. Mi scusi, signora, niente porno al bar. Tranquillo, sono transgender. Oh, non me ne ero accorto. Faccia pure quello che vuole. Voi... Voi ve ne andate? Non avrai più nostre notizie. Sarà come se fossimo morti. Andiamo, ragazzi. No, non portare via i ragazzi, ti prego. No, cosa farò senza di loro? Pancake alla banana, anche tu. Te ne vai per sempre. Vado al Club Hido per pancake. E vai. Rizza e strapazza. Rizza e strapazza. Lo sciroppo e il bacon. Lo sciroppo e il bacon. Preside Shepard. Oh, ehi, Peter. John Shepard, marketing. Contatto visivo, stretta e decisa. Mettiamo il tuo logo su qualcosa. Tazza, penne, tazza. Io... Io non ho un logo. Buffo che tu lo dica, perché il nostro reparto grafico può inventarsi qualcosa. Vediamo. Peter, Peter. Penne? Facciamo avviare Windows 98. Ti piace questo sulla tazza? Eh, no, 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 grazie. Ci sono solo schizzi di Stewie con varie acconciature da capellone. Vediamo se c'è qualcosa nel computer. Ecco. Ripristina profilo DNA originale. Sì. Vuoi aggiungere un'acconciatura da Hansworth? No. Sei sicuro? Sì. Davvero? Sì. Vuoi vedere prima una foto di quello che stai rifiutando? No. Che peccato. Stewie. Peter sta morendo. Cosa? Oh mio Dio, ma è terribile. Vieni a salutarlo? Ma certo. Una volta mi chiese di cancellare la sua cronologia da Google in caso si fosse ammalato. Cronologia di Peter Griffin. Winnie the Pooh. Winnie the Pooh giacca. Winnie the Pooh giacca vintage. Winnie the Pooh giacca da baseball. Winnie the Pooh giacca a vento. I.O. Giacca. I.O. Giacca vintage. I.O. Giacca da baseball. Donne ispaniche incinte che allattano. Wow, questo è un colpo di scena. Gomma per matita di pimpi. Torniamo all'argomento. Zainetto. Winnie the Pooh e cast completo. Oh no, sintomi del cancro. Sì. Sputare sangue quando si tossisce. Dolore addominale. Winnie the Pooh la bara. Sì, è ammalato. Una consegna per Peter Griffin. Ma non ho ordinato nulla. Sì, insomma, avrei potuto se avessi voluto. Ho una nuova carta di credito. Ehi, grande. Incontro un sacco di gente fica oggi. Basta, così gli fai male. No, è solo l'aria che esce. Non sentono niente in realtà. Io non... Che storia è questa? Sì, scusa se ti ho dato appuntamento qui. Almeno posso far atterrare qualcosa. Shredder, hai schiacciato Tom Cruise sotto il tuo elicottero. Ero aggrappato. Non uso stuntman. Faccio sempre acrobazie. La mia vita intera è un'acrobazia. Sì, sì, lo sappiamo. Fai un test sulla personalità? Sempre la stessa risposta. No, grazie. Non smetterò mai di chiederlo. Lo so. Bello vederti, Stewy. Bello vedere te, Mini Tom Cruise. Grazie. Ha sempre l'ultima parola. Stammi bene. Visto? Ciao. Preside Shepard, che cosa ci fa qui? Chris, ti ho deriso perché sei grasso e ti devo le scuse ambigue che porgono i politici. Se ti sei offeso per qualcosa che ho detto, mi ringresce che tu l'abbia presa male. E con questo considero chiusa la faccenda. La ringrazio tanto, Preside Shepard. So che per lei è stato molto difficile. Beh, accetto le tue scuse. Bisogna sempre guardare avanti. Credo che ora tu debba masturbarti. Vero, giovanotto? L'ho già fatto. Chris? Voglio dire, lo faccio tra un minuto. Ah, ben detto. È un bravo ragazzo. Al suo che... Grazie a tutti. Grazie. Grazie.